... Venerdì 4 giugno 2021, questa è Fano TV, canale 17 del Digitale Terrestre. Su tutta la regione Marche, occhio ai giornali in questo momento con la rassegna stampa e le pagine che abbiamo selezionato per voi. Questa mattina abbiamo selezionato soltanto quelle del Corriere Adriatico perché il resto del Carlino nella versione internet PDF non era disponibile. Andiamo subito a vedere il santo del giorno e poi il tempo. Oggi è San Francesco Caracciolo, il sole è sorto alle 5.28 e il tramonterà alle 20.50. Siamo sul sito della Protezione Civile delle Marche questa mattina per dare uno sguardo alla situazione del tempo oggi. Oggi vedete abbiamo il sole in gran parte della regione ad eccezione della catena penninica ma le temperature che sono in ulteriore aumento. Per la giornata di domani invece sarà un po' più nuvoloso vedete con qualche piovasco soprattutto in montagna ma limitatamente ai Sibillini. È la giornata di domenica che ahimè purtroppo ci porterà nel pomeriggio soprattutto precipitazioni sparse anche a carattere di temporale. Questo soprattutto in montagna ma poi anche lungo la costa. All'inizio della prossima settimana sarà instabile con rovescio temporali alimentati da impulsi di aria fredda. Dunque il miglioramento arriverà per la giornata di mercoledì. Allora situazione del tempo, situazione del mare. Apriamo questa finestra come tutte le mattine, tutte le mattine da qualche giorno in realtà perché insomma stiamo entrando nella stagione estiva, nella bella stagione. Allora ci colleghiamo con Tommy il bagnino. Allora non l'abbiamo detto ancora quest'anno. Buongiorno Tommy, non l'abbiamo detto ancora quest'anno ma per coloro e i nostri cari telespettatori affezionati al nostro programma sanno che quando diciamo Tommy parliamo di spiagge di Sassonia, parliamo di Bagnicarlo, parliamo insomma di una delle spiagge più importanti. Ma vedo che, adesso non voglio fare polemica, ma manca un pezzettino di scoglio là dietro. Come mai? Non hanno finito? Eh questo, hai aperto una bella parentesi questa mattina Marco. Tu ho preso in castagna. No vabbè, vabbè. Eh un po' in castagna. Dai diciamo che manca ancora un bel pezzo, sì. Ne manca un pezzo ma penso che lo finiranno adesso appena possibile. Intanto anche questa mattina vedo Tommy il mare stupendo. Questa mattina ha condizioni meteomarine favorevoli, splendido paesaggio anche stamattina, bello, suggestivo. Però mi confermi che domenica è il tempo peggiore purtroppo? Anche io avevo le stesse informazioni ma sono abituato ormai a tempo giorno per giorno, no? Ancora siamo a venerdì, aspettiamo almeno fino a domani per capire. Ok, quindi domani ci darai più o meno la conferma. Grazie allora Tommy, buona giornata, buon lavoro. Buon lavoro e restiamo in acqua perché guardate questo cucciolo di squalo. Questa è la fotografia che pubblica il Corriere Adriatico questa mattina. L'hanno avvistato ieri alla Baia, alla Baia Flaminia di Pesaro. Insomma per quanto sia un cucciolo è sempre uno squaletto, è sempre uno squalo. Quindi fa una certa... chissà che... Speriamo che non ci siano la mamma o i genitori in giro da qualche parte che si sia perso e i genitori siano lontani. Ma comunque questa è la notizia che giustamente pubblica in apertura sull'edizione di Pesaro il Corriere. Città della musica, Tris di Palazzi invece. Il titolo Palazzo Ricci, l'auditorium Pedrotti e la Sala della Repubblica tra i progetti di riqualificazione. Il Comune di Pesaro sta ultimando i bandi di gara. Si partirà con il Teatro Rossini dopo la fine del ROF. Sulle vaccinazioni, da domani scatta lo slot dei 12 anni-39 anni. Insomma lo sprint alla vaccinazione arriva con la decisione della Regione di far partire da domani a mezzogiorno. Come sempre le prontazioni per questo ultimo slot rimasto. Per quanto riguarda Urbino invece era il neonato morto, al via le verifiche interne all'ospedale, al pronto soccorso di Pesaro, il pronto soccorso pediatrico c'è stato un sit-in di protesta del PD e di fratelli, sit-in del PD e fratelli d'Italia va all'attacco. Poi lavoro nero, boom, 7 aziende su 10 trovate irregolari. Sniffa davanti alla figlia, padre finisce a processo, l'uomo è accusato di maltrattamento in famiglia, giovane ha aggredito l'ex, convalidato l'arresto. Ottenevano finanziamenti a scrocco con i dati rubati. Questa dunque è la prima pagina del Corriere Adriatico. Il 46,6% dei marchigiani ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Di questi il 21,7% ha completato il ciclo anche con il richiamo. Dunque il 21% dei marchigiani ha la copertura anti-Covid del vaccino. Da domani a mezzogiorno, come abbiamo detto, partiranno le prenotazioni per un altro slot sul quale io eviterei di commentarlo, ma insomma anche se siamo in una rassegna stampa che commenta i giornali e che serve appunto per stimolare la critica anche a casa, voi che guardate appunto la rassegno ogni mattina, serve per poter dare qualche spunto di riflessione. Non so voi, io personalmente trovo che vaccinare i dodicenni sia qualcosa che non stanno in cielo o in terra, ma comunque è una cosa personale che chiaramente condivido insieme a voi. Qualcuno sarà d'accordo, altri invece no. Leggendo, guardando, insomma un po' in giro sono in tanti però quelli che dicono di lasciare in pace questi ragazzini a 12 anni, infilargli dentro tutta questa roba che non si sa nemmeno che cosa produrrà a lungo termine. Io penso che insomma con una vita davanti lasciamo gliela godere senza troppi pensieri, anche perché statisticamente non si è mai visto, se non qualche rarissimo caso, di dodicenni, insomma a quest'età finire in ospedale in condizioni critiche. Comunque da domani c'è anche questa possibilità e vedo che c'è gente che fa il tifo e tutti contenti come se andassero a ritirare la vincita milionaria al Super Enalotto. Comunque via anche alle richieste per chi risiede all'estero ma si trova nelle Marche. Questo è un articolo che trovate sul giornale di oggi, intanto Saltamartini, assessore regionale, dice così tutti i cittadini ora possono aderire alla campagna vaccinale. Il 92,4% invece, questo è un dato importante perché parliamo di persone che hanno un'età già avanzata, parliamo di chi ha più di 80 anni, ecco questo è un dato importante invece, il 92,4% di chi ha più di 80 anni è protetto e il 71% di questi 80 anni ha pure il richiamo. Quindi se sono finiti in terapia intensiva meno persone, eccetera, dobbiamo chiaramente anche a questa copertura e a questa fascia di età che è stata protetta. La prima settimana è andata e dunque la zona bianca si avvicina anche per la regione, e le rianimazioni come ad ottobre, anche se purtroppo va detto che ieri c'è stato un caso in più, c'è stata un'incidenza in più, una persona in più che è finita in terapia intensiva qui nella provincia di Pesero, quindi il dato adesso è di 22, se non ho letto, se non ricordo male, se non ricordo male dovrebbero essere, sì, più 1, adesso non mi ricordo dove l'ho messo, ma comunque è qua, la situazione è più o meno, sì, la situazione più o meno è comunque buona, nel senso che se stanno, se così andranno avanti questi dati che sono comunque in diminuzione nelle prossime settimane scatterà automaticamente la zona bianca e questo a partire, lo abbiamo già detto, dal 21 di giugno. Ora andare in zona bianca, come sapete, è certamente andare in una situazione un po' più leggera, un po' con meno restrizioni, insomma, anche se non si è mai liberi, come si dice, del tutto. Quindi questo è un po' l'articolo che fa il punto della situazione. Ma a pagina 4 del Corriere Adriatico questa mattina, vedete, un direttore 12 dipendenti, qui cambiamo completamente argomento perché parliamo di turismo. Ora, la Regione Marche ha pensato di, perlomeno con una proposta di legge della Giunta Acquaroli in Commissione Sviluppo Economico, di organizzare, di istituire un'agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle marche, l'acronimo è ATIM, che appunto, come si può già immaginare, avrà come scopo quello di rilanciare le marche, coordinare il rilancio delle marche a livello internazionale. E per fare questo c'è bisogno di un direttore che abbia delle persone che lavorino insieme a lui e quindi 12 dipendenti. Ecco l'agenzia per il turismo che rilancerà il brand, quindi il marchio, il brand e il marchio delle marche. Quanto guadagneranno? I compensi 178 mila euro all'anno per il direttore generale e 560 mila euro per la spesa del personale. Beh, insomma, se andiamo a vedere, alla fine non è neanche tanto. L'importante è produrre perché se poi questi, come si spera, porteranno a casa i risultati e allora benvengano perché sono soldi investiti sicuramente bene. Quindi di questo si parla, si parla in questa pagina 4 del Corriere Adriatico di questa mattina con le varie tappe e le varie organizzazioni, così come è organizzata questa nuova agenzia, con questo direttore unico che abbiamo detto percepirà 178 mila euro, 12 persone come personale e poi un revisore unico che prenderà 17 mila 800 euro l'anno. Si parla sempre di turismo a pagina 9 però con un occhio locale perché qui viene intervistato Luciano Cecchini che è il responsabile dell'associazione albergatori di Fano, Confcommercio e Federalberghi Provinciale il quale Cecchini dice il turista straniero tornerà, sì, ma con gruppi solo a settembre. È un Cecchini fiducioso, dice c'è davvero tanta voglia di fare delle vacanze, numerose sono le chiamate che stanno arrivando per informarsi e fermare una prenotazione, non sempre però arriva la conferma perché ancora c'è, come sempre, titubanza in sicurezza. Questo lo dice appunto Luciano Cecchini analizzando un po' i dati di queste prime giornate, di queste prime settimane. Fermo restando che ancora non sappiamo perché a livello europeo non è stato ancora ben definito questo Green Pass, quindi anche i giovani che solitamente sono quelli che muovono un po' di soldi anche dal punto di vista turistico, così come le famiglie e quant'altro, ma se non ci sono regole certe che valgono per tutta l'Europa dove uno potrebbe appunto cominciare a viaggiare e ritornare a viaggiare, se non ci sono queste regole è un po' difficile perché poi si va nei paesi, non si parla la stessa lingua, si fa difficoltà a farsi capire, magari c'è un intoppo, si rovina la vacanza, si buttano i soldi, insomma già di pensieri ne abbiamo avuti tanti, se c'è pure il pensiero di andare con tutte queste incognite in vacanza uno rinuncia oppure sta vicino a casa o in Italia appunto dove si parla la stessa lingua. Tra Pesore e Fano le mamme fanno la spola quattro volte al giorno, allora sono mamme costrette a fare su e giù tra gli ospedali di Pesore e Fano anche quattro volte al giorno per curare i propri figli. E ora arrivano anche le famiglie in vacanza, va riaperto subito un pronto soccorso pediatrico a Pesero, quindi a San Salvatore, quindi questa è la richiesta diciamo, è l'istanza più importante per evitare appunto di fare questi viaggi tra Pesero e Fano perché chi sta a Pesero e siccome a Pesero non c'è più il punto diciamo pediatrico, il pronto soccorso pediatrico per la questione di Covid e quant'altro, devono venire a Fano. Insomma non è una passeggiata. Baiocchi invece di Fratelli d'Italia dice che le posizioni sono anche giuste ma portate avanti da chi il problema l'ha creato. Dunque la manifestazione davanti al pronto soccorso porta avanti posizioni giuste secondo Baiocchi, ma è organizzata da chi il problema l'ha creato. Su questo credo che più o meno potremmo essere abbastanza d'accordo. La chiusura del Dipartimento Materno-Infantile infatti porta il nome di coloro i quali oggi sono a chiedere risposte. Non esistono manifestazioni che possano cancellare le parole dell'assessore Loretta Bravi che non considerava una priorità la riapertura del reparto nemmeno finita la fase emergenziale. Sulla triste vicenda del neonato morto ad Urbino quel neonato che è rimasto in vita per una cinquantina di minuti poi è morto all'ospedale di Urbino sapete lì sono tanti, credo nove persone tutte dall'ospedale che hanno ricevuto adesso dovranno rispondere in qualche modo. Parte un accertamento come verifica di qualità dice il direttore medico Andrea Cani Neonato morto, il direttore medico di Urbino annuncia l'audito interno sulle procedure il caso tra gli eventi sentinella del rischio clinico monitorati dal Ministero della Salute dunque la morte di questo neonato in un reparto di ostetricia come quella che è avvenuta all'ospedale di Urbino è uno degli eventi cosiddetti sentinella su cui il Ministero della Salute con uno specifico protocollo a cui devono ottenersi le regioni e le aziende sanitarie attua uno scrupoloso monitoraggio questo avviene dappertutto cioè laddove succede purtroppo una morte così come quella che è avvenuta di un neonato scatta tutta una serie di controlli di protocolli in automatico proprio quindi anche questo e questo scatta appunto anche in Urbino si tratta infatti di eventi sanitari avversi di particolare gravità causa appunto di morte o di danni rilevanti al paziente che intaccano la fiducia dei cittadini nel servizio sanitario quindi ovviamente devono fare luce su quello che è accaduto il decesso del neonato avvenuto 50 minuti dopo il parto nel reparto di Urbino è stato tempestivamente segnalato dall'ospedale al Ministero della Salute e sarà oggetto di un accertamento dell'area vasta 1 finalizzato appunto a verificare quali siano state queste procedure adottate e accertare anche l'eventuale necessità di adeguarle tra l'altro c'è anche l'altra notizia che riguarda un altro neonato un altro bambino molto piccolo sei mesi che è stato ucciso da una insufficienza respiratoria almeno questo è l'esito dell'autopsia su questo bimbo di Villanova di Monte Maggiore siamo nel comune di Colli al Metauro alle 15.30 scrive il giornale ci sarà il funerale il funerale sarà oggi alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Villanova celebrato dal parroco Don Alcide Baldelli una tragedia che giustamente viene indicata come terribile che ha colpito una famiglia padre e madre di età poco inferiore ai 30 anni lui operaio lei insegnante giovane e tanto stimata dai compaesani insomma un'intera comunità di persone che insomma è stretta si stringe al dolore di questa coppia con un moto di solidarietà e di affetto il covid ha aumentato le richieste di lavoro nero però boom del lavoro nero con 7 aziende su 10 praticamente irregolari questo è un altro articolo sulla pagina di Pesaro del Corriere di Oggi il report dell'ispettorato del lavoro anche 18 casi di caporalato e 3 milioni di contributi non versati lavoro nero prevaricazioni legate all'epoca del covid 7 aziende su 10 sono irregolari 18 casi di caporalato insomma abbiamo visto nell'anno 2020 l'attività svolta dall'ispettorato territoriale del lavoro è stata indirizzata al contrasto degli illeciti di maggiore complessità e disvalore sociale andiamo adesso sulla pagina di Pesaro e provincia perché dal tribunale di Pesaro esce questa notizia sniffa davanti alla figlia padre finisce a processo l'uomo 48 anni accusato di maltrattamenti in famiglia la cocaina assunta in casa davanti alla figlia i soldi dilapidati e tolti alla famiglia fino alle minacce gravi ieri davanti al collegio del tribunale di Pesaro si è aperto un processo che vede un 48enne pesarese accusato di maltrattamenti in famiglia poi aggredisce in casa la ex fidanzata giovane torna in libertà il giudice ha convalidato l'arresto ma ha disposto che uscisse dal carcere qui parliamo di un 25enne italo argentino che è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori violenza sessuale e lesioni il giudice ha convalidato l'arresto ma ha rimesso in libertà questo giovane il fatto scatenante il 31 maggio alle 6.30 del mattino lo abbiamo ricordato qualche giorno fa sempre leggendo questi articoli quando questo ragazzo si è presentato dalla ex con la quale aveva avuto una relazione di tre anni e insomma una gelosia cieca che poi secondo quello che è stato raccontato insomma l'avrebbe presa trascinata per i capelli portata in bagno eccetera eccetera guardate ancora questa fotografia di questo un fotogramma del video che ha ripreso la verdesca Baia Flaminia questo squaletto questo squaletto tra i bagnanti della Baia con un cappio di plastica però che lo avvolgeva insomma che lo avvolge un esemplare di verdesca probabilmente un cucciolo il bagnino dice abbiamo tentato inutilmente di togliergli questo nastro di plastica attorno però non c'è stato niente da fare speriamo che riesca in qualche modo da solo e insomma possa poi essere per lo meno libero da questi impedimenti da questo il delfino vera invece muore 43 anni nel parco di Oltremare di Riccione vedete si parla sempre di questi questa volta un delfino che non ha niente che vedere con gli squali ma 43 anni stroncato da un resto cardiocircolatorio aveva vissuto per molti anni in una struttura in Finlandia poi in Grecia e poi il trasferimento nel 2020 nel parco Oltremare di Riccione però purtroppo dopo 43 anni è morto Valmetauro invece nella pagina della Valmetauro il Corriere Adriatico pubblica la notizia del funerale di Don Pier Giorgio Giorgini da tutti conosciuto come da chiamato Dompi Don Pier Giorgio appunto ha prodotto molto frutto la folla il sole per il suo dio il funerale che è stato celebrato all'aperto dal Vescovo e da una ventina di confratelli sacerdoti Don Giorgini si è battuto per i problemi concreti dei parrocchiani della comunità stiamo parlando della comunità di Carrara di Fano che ha visto insomma Don Pier Giorgio protagonista in due battaglie in particolari contro l'elettromagnetismo lì vicino a Carrara c'è una centrale elettrica molto importante e dal punto di vista ambientale invece contro quella che fu nel 2007 una una notizia bomba in tutti i sensi perché comunque si parlò di un traffico illecito di rifiuti tossici tra virgolette o comunque senza virgolette in una cava lì vicino tutte queste erano state battaglie portate avanti anche da Don Pier Giorgio poi però sulla in questo articolo scritto da Foghetti questa mattina c'è un intervento del sindaco di Fano tra l'altro un suo parrocchiano perché il sindaco è di quelle zone insomma di Carrara alla fine della messa scrive Foghetti ha preso la parola anche il sindaco Massimo Seri il quale dice sapeva parlando di Don Pier Giorgio sapeva condurre le sue battaglie civili con garbo seppure con grande determinazione nel corso dell'ultimo contatto ecco qua nel corso dell'ultimo contatto fugace con Don Pier Giorgio mi confessò che doveva comunicarmi una cosa importante e delicata sull'isippo mi venga a trovare mi disse e ne parliamo purtroppo la malattia ha impedito questo incontro e Don Pier Giorgio si è portato questo segreto via con sé da Fossombrone invece diplomi alle studentesse guide nelle giornate fa il riconoscimento consegnate alle giovani dell'istituto Donati e poi ciclisti e pedoni potranno accedere al furlo da Acqualagna c'è un'ordinanza del sindaco fino a Golena e Galleria da Senigallia invece finti operatori per truffare gli anziani il porta a porta ora rischia il giro di vite il sindaco Livetti incontra il comandante della polizia locale e pensa ad un'ordinanza per dettare le regole perché chiaramente per cercare di entrare in casa si intrufolano cercano di estorcere una firma ai malcapitati le vittime prescelte però non si sono fatte abbindolare e hanno chiamato la polizia recandosi successivamente poi in commissariato a sporgere denuncia per tentata truffa negli ultimi giorni è accaduto a Marzocca di Senigallia nel quartiere dell'ex piano regolatore dove gli operatori avevano proposto offerte vantaggiose per il cambio di gestore che nei contratti può però non comparivano quindi anche qui non ci sono soltanto quelli che vogliono entrare in casa vostra per con la scusa di una verifica di un controllo eccetera eccetera per rovistare nei vostri cassetti negli armadi nelle credenze e quant'altro ma ci sono anche quelli che fanno i furbi e vogliono farvi firmare dei contratti e farvi cambiare magari gestore della luce gestore del gas e quant'altro chiaramente sono tutte pratiche commerciali scorrette che vanno condannate per il quale adesso appunto pare che il comune di Senigallia voglia porre rimedio con un regolamento che poi magari scopriremo nei prossimi giorni Vallefoglia scuola bus un taglio alle rette la decisione della giunta niente seconda e terza rata questo è importante in tempi in cui bisogna risparmiare su tutto niente seconda e terza rata da pagare per le famiglie riguarda il periodo a cavallo tra gennaio e giugno il comune non ci rimetterà soldi mentre sotto da Pesero oasi delle api al centro brilli cattarini inaugurate arnie didattiche protocollo d'intese firmata da provincia e soroptomist mentre sì questa era l'ultima non c'è lo sport questa mattina ok allora ho ancora un minuto per ricordarvi che questa sera dopo il telegiornale delle 20 e 30 occhio alla notizia naturalmente ci sarà uno speciale dedicato al 35esimo anniversario del CB Club Mattei di Fano legato alla protezione civile un evento che c'è stato sabato scorso molto bello con tanti ospiti quindi questa sera appuntamento intorno alle ore 21 grazie per averci seguito l'augurio di una buona giornata